Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarion, se non l'avete già fatto estremamente non l'avete già fatto mettete un bel like e iscrivetevi a questo canale e invitate anche altri a iscrivervi a questo canale voglio arrivare a 10.000 iscritti adesso vi voglio mostrare questo oggetto, per chi non lo conosce serve per la stampante 3D, sopra si mette la bobina, la stampante mentre tira il filo la bobina può girare senza attriti in questo modo non dà problemi al materiale, a quanti materiali che deve uscire dall'ugello il problema di questo qui è che non è possibile adattarlo a tutte le bobine perché ogni bobina comunque ha la sua tolleranza cioè quella lì che anche se è un chilo un po' più stretto, un po' più larga, questa qui purtroppo non è adatta a questi tipi di bobine effetti io molte volte mi sono trovato la bobina che è scivolata all'interno del cuscinetto e mi sono dovuto trovare lì con la bobina che stava andando sopra la stampante quindi ho realizzato lo stesso progetto, modificato, l'ho fatto anche un po' più alto, ho fatto in legno ovviamente anche con dei pezzi stampati con la stampante 3D nel video vi mostrerò cosa realizzate e come l'ho assemblato buona visione e mi raccomando non dimenticatevi il like buona visione e mi raccomando non dimenticatevi il like buona visione e mi raccomando non dimenticatevi il like buona visione e mi raccomando non dimenticatevi il like buona visione e mi raccomando non dimenticatevi il like Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti